Si sposta in Peru l'inchiesta sulla sparizione di Cata. La bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno dall'hotel Astor, la struttura occupata in via Maragliano in cui da mesi viveva con i genitori e il fratellino. La procura di Firenze ha avviato formalmente l'iter di rogatoria internazionale necessario a poter raccogliere dichiarazioni di persone, parenti e conoscenti vicine alla famiglia della piccola. L'attenzione degli investigatori è concentrata in modo particolare su uno zio paterno attualmente rinchiuso nel carcere di Lima e al centro di una vicenda di droga, vicenda fiorentina, che risale alla primavera dello scorso anno. Tra le ipotesi prese in esame dalla procura che indaga per sequestro di persona c'è infatti anche quella che Cata possa essere stata rapita per errore, scambiata magari per un'altra bambina. Un'ipotesi che ha preso campo dopo che gli investigatori hanno messo insieme i tasselli di quella vicenda per la quale fu perquisita un'abitazione a Firenze dove viveva una donna, madre di una bambina della stessa età di Cata, poi andata a stare proprio all'Astor. Non si abbandona però l'altra pista, quella di un rapimento come ritorsione e vendetta contro il racket degli affitti nell'albergo occupato, vicenda per la quale sono state arrestate quattro persone tra cui lo zio materno della bambina.